Effettuiamo il test della ricezione, mi posiziono a 8000 kHz, quindi circa 450 kHz più su della più alta frequenza che abbiamo visto sull'oscillatore locale, e andiamo a cercare il nostro segnale. Vediamo, eccolo. Eccolo qua. Riconosciamo la modulazione AM, alziamo il volume. Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Ciao a tutti. Spesso mi viene chiesto nei commenti di parlare di radio d'epoca. Questa sera è l'occasione giusta perché ricevo questo pacco, spedito da Giuseppe Per, contenente una radio, Radio Marelli, modello RD272 West, destinata al mercato estero, che ha diversi problemi. C'è un autotrasformatore che si è rotto, qualche componente sbrucciacchiato, ci sono rumori, insomma, è una radio che ha bisogno comunque di una bella revisione. Quindi Giuseppe ce l'ha spedita, originariamente aveva anche la parte giradischi, qui avremo solo la parte radio, quindi è a pezzi. Con l'occasione cercheremo di studiare lo schema, tenteremo la riparazione e quindi, buona visione! Ho posizionato qua sul banco il contenuto della scatola, quindi abbiamo la radio appunto per pezzettini, schema elettrico, valvole, trasformatori, ma anche una letterina che andiamo subito a leggere. Ciao Pierre! Come promesso ti invio tutto il circuito relativo alla radio Marelli RD272 o West RD272 per il mercato estero. Sono presenti anche i componenti vecchi e altri ricambi utili alla riparazione. Ti riepilogo lo stato in cui l'ho trovata, cosa gli ho fatto e cosa vorrei che tu facessi. Stato precedente, trasformatore sciolto, resistenza 330 Ohm, 2 Watt, bruciacchiata, cavo verde dell'altoparlante staccato. I lavori che ho eseguito sono sostituzione autotrasformatore, saldatura cavo dell'altoparlante, sostituzione resistenza scheda alimentatore, tutti i condensatori elettrolitici, diodo sull'alimentazione, condensatori ceramici, pulizia potenziometro, lavaggio saldature. Insomma, quindi già un bel po' di cose sono state fatte. Dando tensione mi dà questi problemi. Valvola UCL82 originale che scalda moltissimo, forse vede una crepa. Filamento di due valvole, quelle montate sul circuito stampato principale, che sembra non accendersi. Il volume si sente bassissimo e non prende nessuna stazione, si sente solo un disturbo provenire dalla cassa. Forse in un solo caso sono riuscito a sentire delle voci bassissime provenire dalla stessa. Cosa fare? Riparazione? Sostituzione dei componenti nuovi con quelli originali, se funzionanti? Io sostitui tutto in via precauzionale, ma vorrei tenere anche un po' di originalità. Grazie mille per i complimenti per il tuo canale che seguo assiduamente. Saluti, Giuseppe Perla. Diamo un'occhiata allo schema elettrico, cominciamo dalla presa d'ingresso, quindi 220V, noi l'alimenteremo a 230V. Questo è il trasformatore che fornisce la 160V come autotrasformatore a giradischi, nel senso che come vedete c'è una presa intermedia che preleva la 160V partendo dalla 230V. Poi abbiamo le tensioni di secondario che sono la 50V per l'UCL 82V e le tensioni per i filamenti, quindi le 6.3V che vanno ad alimentare le tre valvole. Proprio il trasformatore è il primo elemento guasto, infatti qua abbiamo quello originale che effettivamente anche solo annusandolo fa odore di cotto, quindi sono stati sezionati i cavi originali e qua è stato trovato un trasformatore che è più o meno equivalente. Verifichiamo le caratteristiche per vedere se soddisfa le alimentazioni richieste. Utilizzeremo la 6.3V per i filamenti, qua viene specificato che a vuoto sono 8,5V, la 48V per alimentare la UCL 82, questa a dire il vero è un po' bassa perché la nodica dell'UCL 82 sarebbe a 55V. Poi utilizzeremo la 155V e la 160V invece servirà per i giradischi. Ho posizionato le valvole, partendo dall'ingresso abbiamo l'ECC85, ECH6, EF89, UCL 82 e infine la EM84. Lavoreremo su queste due schede, in questo sacchetto Giuseppe ci ha lasciato i componenti che ha sostituito, come vedete l'elettrolitico, spina, qualche altro componente probabilmente sbrucciacchiato, ceramici, resistenze. Verifichiamo dapprima il trasformatore di alimentazione a vuoto, quindi fornisco la 230V tramite Variac, quindi in realtà partirò da zero, sui fili bianco e nero, che sono gli estremi dell'avvolgimento, e con l'altro multimetro, l'UniT, andrò a leggere le tensioni sulle diverse prese. Cominciamo con la tensione più bassa, che è quella per i filamenti, che a vuoto dovrebbe essere di 8,5V alternati. Andiamo su con la tensione, gradualmente, giusto per essere sicuri che non ci siano problemi sul trasformatore nuovo, e che non ci siano sbagliati con i fili. No, non satura, vuol dire che l'avvolgimento è quello giusto. Vedete, siamo a 140V alternati, 5.6V, sì, direi che dovremmo raggiungere gli 8,5V. Andiamo a 220V, che era la specifica originaria di questo trasformatore, 8,78V. Noi poi alimenteremo con 230V, quindi a vuoto si raggiungono i 9,2V. Alimentando a 230V fra bianco e nero, queste sono le tensioni che ho rilevato. Quindi abbiamo visto prima la 9,2V, 49,6V per la 48V, che poi, come dicevamo, sarà la nostra, 50V per la UCL 82V, 176,7V al grigio, 183,4V al blu. Come sempre, prima di mettere mano al circuito, ricordiamo che l'aspetto di sicurezza elettrica è molto importante. Qua abbiamo a che fare con la 230V, ma specialmente in questo caso è ancora più pericoloso, perché vedete, abbiamo l'ingresso a 230V su un autotrasformatore, quindi non c'è nessun isolamento galvanico. Ma soprattutto, un filo è collegato direttamente al telaio della nostra radio, e quindi è un punto che va in tensione. Guardiamo lo schema elettrico di questo ricevitore, che opera in onde medie, onde corte e anche in FM. Quindi, dall'ingresso, abbiamo con un'impedenza di 300 Ohm, incontriamo subito un trasformatore che ci permette di adattare l'alta impedenza che abbiamo su questo circuito rispetto all'impedenza di antenna. E inoltre ci fa un primo stadio di filtraggio sulle gambe da ricevere. Qui abbiamo la valvola V1, che è l'amplificatore RF e anche convertitore in FM. Quindi abbiamo la conversione della frequenza alla frequenza intermedia, che per la FM è 10.7 MHz. Poi abbiamo la V51, che è una convertitrice MA, realizzata da questa ECH81. Segue la V52, che è un amplificatore MF. Notate che qua poi sono indicati, appunto, per MF 10.7 MHz, MA 450 KHz. Sono frequenze universalmente utilizzate per questo tipo di funzione. Poi segue la parte di rilevazione, sia FM che AM. Per la parte FM si tratta di un rilevatore a rapporto. Lo riconosciamo perché ci sono due diodi che sono montati in verso opposto. Un trasformatore a presa centrale con un avvolgimento terziario. Ai capi di questo ponte di misura, costituito da questi due diodi, si troverà il segnare rivelato. Per la parte AM è sufficiente un solo diodo per rilevare, appunto, il segnale, in quanto l'informazione è trasportata sull'ampiezza del segnale. Invece, per la rilevazione a rapporto, sappiamo che i diodi fanno comparire il segnale rivelato grazie allo sfasamento positivo o negativo rispetto alla frequenza intermedia di 10.7 MHz. Infine, la parte di bassa frequenza viene preparata per l'amplificazione in modo da poter pilotare l'altoparlante. Qui in basso abbiamo l'occhio magico che ci permette e ci aiuta, appunto, nella fase di sintonia. Questo blocco è noto come gruppo FM e il primo triodo, che è un ECC85, si trova molto spesso, esegue una prima amplificazione, mentre il secondo triodo fa parte dell'oscillatore locale e mescolatore, utilizzato, appunto, per il principio di supereterodina. Quindi, un segnale che entra con una certa frequenza, proprio per il battimento e la mescolazione, viene convertito nella frequenza intermedia di 10.7 MHz. In questo caso si utilizza un triodo perché si sfrutta la sua capacità di basso rumore. Infatti, potrebbe essere utilizzato un pentodo, che sappiamo lavorare a maggior frequenza, ma la presenza di tanti elettrodi nel pentodo può creare rumore, che è veramente un problema in questo tipo di applicazione. Quando si riaccende per la prima volta una radio d'epoca, non bisogna mai dare la tensione di rete subito la prima volta, perché l'invecchiamento dei componenti, molto probabilmente, ha introdotto un degrado e quindi si rischierebbe di effettuare un ulteriore guasto. Una cosa tipica, prima di procedere, sarebbe la misura di ogni valvola con un prova valvole per vedere se queste sono ancora buone o esaurite. Questa operazione al momento non la facciamo, quindi andremo a rimettere le valvole su zoccolo e vediamo dall'ingresso effettivamente se il segnale transita nei vari stadi, come ci aspettiamo. Se vi interessa qualche approfondimento sul principio di funzionamento della supereterodina, potete guardare il video 729 dove avevamo analizzato un ricevitore FM di nuova elettronica. Inoltre vi consiglio di visitare le pagine di Le Radio di Sofì, che è un sito molto famoso, e vi lascio anche in descrizione un link dove ho avuto una diretta con il proprietario del sito, che è Leonardo Mureddu, che saluto e ringrazio. Ho inserito tutte le valvole, posizionarlo è stato abbastanza semplice, perché Giuseppe aveva fatto dei pallini, comunque da schema si riconosce che questa è la finale verso la cassa altoparlante, questa qua non può essere che quella del gruppo FM, perché come vedete è schermato, si trova vicino all'antenna e quindi qua abbiamo le CC85. Quindi sono tutte montate tranne questa, perché voglio misurare la tensione che avrei ai filamenti. Quindi mi posiziono con un multimetro qua fra i pin 4 e 5 e verifichiamo con tutte le valvole collegate e il solo filo del trasformatore che porta la tensione da 6.3 nominale, quanto misuro qui? Abbiamo 6.1, quindi un po' meno. Rispetto alla misura che abbiamo fatto prima a vuoto, ovviamente è più bassa, perché adesso abbiamo comunque un po' di carico su questo avvolgimento. Allora, per trovare il filo a cui collegare i filamenti, che è questo qua verde, sono andato per esclusione, poi comunque abbiamo che la tensione è data fra il telaio, che ricordiamoci essere il nostro comune, e questo filo verde. Ho inserito il CC85 e come si vede è accesa, infatti notiamo l'arancione qua. Controllo la tensione ai pin 4 e 5 della valvola F84, quindi il filamento. 5.1, un po' basso, eh. Utilizzando il multimetro ho identificato i fili a bordo scheda che collegavano il vecchio trasformatore e li ho riportati qui. Avremo quindi che il filo arancio del nostro trasformatore nuovo dovrà essere collegato al filo verde della scheda e sono tutti i filamenti delle valvole. Vedete che abbiamo tra i pin 4 e 5 delle valvole, tutte tranne la UCL82, che invece ha bisogno della 50V. Infatti questa valvola preleva la 50V e l'altro riferimento è a massa. Quindi la UCL82 la alimentiamo con questa 49.6V a vuoto e quindi il filo marrone del trasformatore lo porteremo al bianco della scheda. Il giradischio non lo utilizziamo in questo momento e sfrutteremo invece la 183V a vuoto filo blu sul filo rosso della scheda. Questo l'ho identificato semplicemente cercando C107, che è questo condensatore che come vedete è collegato qui alla 155V alternata originaria. Ho effettuato tutti i collegamenti del trasformatore, qua abbiamo il fusibile sempre in ingresso, il bianco e il nero che sono la tensione che proviene dal variac, come vedete il bianco l'ho portato qua allo chassis con questo collegamento a capocorda, che è il nostro riferimento, molta attenzione. Questo filo arancione è il filamento collegato al verde, questo filo marroncino è il filamento della UCL82, che dovrebbe essere nominale sui 50V, e infine questo filo blu con morsettino è la nodica che poi va a scheda. Effettuiamo le misure in alternata, quindi riferimento sempre lo chassis. Questi filamenti 4.2, molto bassa. Questa è la nodica, 181 potrebbe anche andare bene. E infine abbiamo la nodica della UCL82, 40.3, anche questa è bassa, dovrebbe essere 50V. Da foto in rete recuperiamo qual è la funzione dei vari pulsanti. Questo è il fono, poi abbiamo le onde corte, onde medie e FM. Quindi direi che per un primo test utilizzeremo le onde medie, che sono la frequenza più bassa. Daremo uno stimolo dall'esterno, quindi con un oscillatore, modulatore. Per le onde medie, che coprono da circa 500 kHz a 1,6 MHz, posso utilizzare il mio generatore di funzione. Frequenza posso andare appunto da 500 a 1,6 MHz. Utilizzerò una modulazione AM, e per questa possiamo fare una modulazione 100% sul livello, andando a impostare, 100% di profondità, e una frequenza di modulante di 2 Hz. Quindi la potremmo dire come modulazione ON-OFF. Ho collegato il generatore di funzione direttamente all'antenna, tanto non abbiamo problemi di massa perché siamo completamente isolati, grazie al trasformatore di isolamento. Partiamo da un livello basso, vediamo se succede qualcosa. Ho alimentato a 2,30, questo è l'interruttore che controlla poi anche il volume. Posizioniamo il selettore su onde medie, non si sente niente. Ah, attenzione, si sente qualcosa dalla cassa se tocco quest'altro selettore. Potrebbe essere forse anche un problema di contatti, eh? Comunque vediamo in questa posizione di onde medie se girando la sintonia per caso si sentisse qualcosa. No, nulla. Trascuriamo per un momento la parte iniziale sulla sintonia e ci concentriamo sulla valvola convertitrice, questa ECC-H81. Questi tre sono i selettori che abilitano la FM, le onde medie e le onde corte, lo riconosciamo da queste sigle, e mettono in collegamento la valvola convertitrice con gli oscillatori locali che sono riportati qui sotto. Quindi nel caso di onde medie avremo che questo gruppo è inserito tramite questi fili fra il 9, che è la griglia di questo triodo, e quest'altro punto. Quindi verifichiamo con l'oscilloscopio effettivamente se abbiamo il segnale di oscillatore locale quando il selettore OM è abilitato. Questo è lo schema dell'ECC-H81. Allora i pin 1 e 9 sono in corto, quindi tutti i terminali di griglia sono in corto circuito. Preleviamo il segnale fra questi due pin, l'8 e il 9, quindi l'anodo e la griglia del triodo. Con la radio capovolta, allora questo è il pin 9 e questo è il pin 8. Mi sono messo come terminale di riferimento sempre sulla massa, ricordiamoci che sono isolato, quindi non abbiamo problemi. Pin 9, griglia, zero assoluto. Provo a cambiare un po' con i selettori, a vedere. Eh, quando passo da una modalità all'altra qualcosa appare. Andiamo sull'anodo che è un segnale di livello più ampio. Mi trovo a 100 volt di visione, quindi 120 volt di continua sull'anodo. Provo a agire sui selettori. Eh sì, qualcosa accade, quindi sembrerebbe un problema di contatti qui. Mi sono accoppiato in alternata, sempre sull'anodo. Agisco sui pulsanti. Vedete questi sbalzi? Eh, poi ogni tanto compare una frequenza, potrebbe essere la nostra. E anche la cassa ogni tanto gracchia. Con il multimetro in alternata ho misurato fra i pin 4 e 5, che sono il filamento, la tensione prodotta dal nostro trasformatore. È di soli 4,1 volt, un po' troppo bassa. Quindi adesso, secondo me, conviene aumentare la tensione ai filamenti, non utilizzando quel trasformatore. Per fornire una tensione di 6,3 volt al filamento utilizzo il Variac. Allora, io ho un trasformatore di isolamento che mi separa da tutto. Questo è il nostro autotrasformatore che fornisce le tensioni intermedie, che viene collegato fra nero e bianco sulla 2,30. E normalmente c'è il filo arancione che va al filamento. Ma abbiamo visto che è troppo basso. Allora collego il Variac in questa maniera, stando attento che il riferimento comune del Variac sia lo stesso del nostro filo bianco e lo chassis. E poi vado a prelevare la tensione di 6,3 volt, che regolerò appunto con il Variac. E questa la collegherò al filo arancio. Ho regolato il Variac per avere la mia tensione di filamento poco sopra 6,3, 6,5. In questa maniera le valvole siamo sicuri che sono correttamente alimentate. Ho ridato tensione ed effettivamente adesso l'occhio magico per esempio è funzionante, cosa che prima non era. Infatti vedete la colorazione tipica verde, l'arancione e anche le altre valvole hanno i filamenti decisamente più vividi. Questa è l'UCL 82 e questa è l'ECC 85. Inoltre adesso dalla cassa esce un ronzio. Proviamo a variare la sintonia qua con il condensatore variabile. Ecco qua sembra che il segnale sia un po' più forte. Ora proviamo a scendere la nostra frequenza intermedia di 450 kHz, quella utilizzata da questa radio, per vedere se sentiamo qualcosa. Ecco. Questa si sente, eh? Si sente. Introduciamo la modulazione AM. Eccola. Sentite? Questi sono i famosi 2 Hz della mia modulante. E andiamo a cambiare per esempio, aumentare la frequenza. Eccola qua. Ok. La valvola V51 e CH81 fa da oscillatore locale. Su questi punti sono collegati tramite i selettori i gruppi che regolano la frequenza. Andiamo a vedere su questi pin se è presente la frequenza di oscillatore locale. Intanto ho controllato la presenza di tutte le alimentazioni, quindi il filamento è alimentato, gli anodi hanno la tensione continua e anche qua la griglia è polarizzata correttamente. Mi posiziono con la sonda 101 su un pin che è collegato al 9 della nostra valvola, che sarebbe la griglia del triodo. Ho messo l'accoppiamento in alternata, qualsiasi tasto io scelga non compare nessuna frequenza. Quindi temo proprio che questa valvola abbia dei problemi, perché è correttamente alimentata ma non oscilla. Attingo al tesoretto di valvole spedito da Romano R della provincia di Ravenna. Sono tutte catalogate in lista e la ECH81 ce l'abbiamo in quantità 2. Eccola qui. Così è una prima occhiata. Direi che si trova al piano inferiore. Quindi adesso andiamo alla ricerca. Eccole qui. Le due ECH81. Marcata Siemens. Vediamo. Scatolina praticamente nuova. Eccola qua. Nuova fiammante. Da un punto di vista costruttivo, le due valvole sono leggermente diverse. Vediamo come si comporta questa. Una buona parte di problemi penso che sia dovuta a questa pulsantiera, che ha i contatti esposti qui. Difatti credo che non faccia contatto. Verifichiamo in questa posizione in cui tutti i pulsanti sono esclusi. Dovrebbe esserci il contatto esatto fra i pin cosiddetti alti, quindi il centrale e quello alto. Spingiamo ora sul pulsante delle onde medie. Siamo riusciti a incastrarlo, non sempre la ritenuta funziona. Vediamo se fa contatto, quindi mi metto esattamente in fila, pin centrale con quello alto, non ce l'ho più, ok. E ha fatto contatto qua. Vediamo l'altro contatto. Eh no, qua non ce l'ho, eh. Quindi questo selettore ha sganciato il contatto superiore, ma quello inferiore non sta facendo contatto. Diamo una ripassata a tutte le saldature. Noto che ce ne sono certe, come questa, che vedete, che ha a manco di stagno. Qua il contatto direi che è decisamente precario. Osserviamo la parte a frequenza più bassa, quindi le onde medie che entrano da quest'antenna incontrano la classica barretta inferrite e poi vanno su questo gruppo che è commutato grazie a questo selettore. Questo gruppo LC viene portato su questi punti del triodo per eseguire appunto l'oscillatore locale. Le onde corte invece vengono prelevate da quest'antenna portate qui e commutate tramite quest'altro selettore. Come vedete, i due selettori fanno sì di veicolare le onde corte tramite la selezione di queste onde corte. Quando quell'altro è disabilitato, il segnale transita di qua e viene comunque accoppiato su questo triodo. posizioniamoci qua sull'anodo il pin 6 di questo triodo e vediamo cosa succede. La tensione di anodo la andiamo a prendere direttamente in questo punto qua su C51. Abbastanza comodo ci arrivo con questa pinzetta rossa. Ho fornito la 230 e sulla anodica abbiamo 200 volt. Ora inseriamo quindi vediamo se la valvola si accende. Quindi qua siamo in continua. Se tutto va bene questa dovrebbe abbassarsi perché abbiamo conduzione appunto anodica. Eccola, vedete? Comincia ad abbassarsi. Perfetto. Significa che la valvola è entrata in conduzione quindi il punto di polarizzazione in continua c'è. Vediamo se su questa anodica abbiamo una frequenza alternata sovrapposta. Per farlo mi accoppio in alternata e aumento la scala. Ho una frequenza ma questa qua che balla lentamente è di sicuro raddrezzamento da 50 Hz. E poi qua ho un livello molto basso. Eccolo. Andiamo a vedere. E lo fermiamo. misurata con i cursori questa frequenza ha un valore di circa 1 MHz verifichiamo ora la variabilità dell'oscillatore locale a seconda della posizione del condensatore variabile. Qua è tutto inserito quindi dovrebbe essere la frequenza più bassa andando ad agire in questa posizione invece dovrei ottenere la frequenza massima. Con il condensatore tutto inserito la frequenza minima rilevata è quella data dai cursori di 877 KHz. Perdonate la doppia visualizzazione questo è dovuto al ripple di 50 Hz che quindi crea questa doppia onda ma andiamo a escludere piano piano il condensatore in aria e vedete che la frequenza sta giustamente aumentando. Ok? Qua sono al massimo fermiamo ed effettuiamo la misura. La posizione dei cursori è relativa alla frequenza bassa come vedete adesso è aumentata infatti abbiamo più cicli all'interno di questa misura li spostiamo per effettuare la misura quindi da due picchi successivi con i cursori leggiamo il periodo e la frequenza la frequenza è arrivata a 1.44 MHz per il principio della supereterodina per poter lavorare a una frequenza intermedia fissa di 450 KHz l'oscillatore locale deve poter variare la sua frequenza tra una frequenza fmin ed fmax tale per cui qualsiasi frequenza in ingresso venga riportata a questo valore per differenza delle due frequenze quindi per vedere che frequenze deve avere l'oscillatore diremo che fmin è uguale alla minima frequenza delle onde medie 526 KHz più la 450 KHz e quindi l'oscillatore locale dovrà avere una frequenza minima di 976 KHz noi abbiamo rilevato 877 KHz la fmax è la frequenza massima per le onde medie che è 1620 KHz sempre più la frequenza intermedia 1450 KHz e quindi la frequenza massima dell'oscillatore deve essere di 2070 KHz qua abbiamo registrato solo 1440 KHz quindi sicuramente bisognerà rifare bene l'allineamento ma per ora ci basta sapere che l'oscillatore locale sta lavorando quindi vediamo cosa succede se entra una frequenza qui sono visibili i diversi elementi di regolazione queste due viti sono due compensatori quindi due condensatori variabili poi abbiamo queste induttanze con il nucleo inferrite anche questo se viene inserito o tolto dal suo corpo del rocchetto cala l'induttanza poi abbiamo anche questa induttanza qua agiamo su questo compensatore che credo sia quello legato alle onde medie e vediamo la frequenza dell'oscillatore locale come varia agisco sul compensatore dall'altra parte direi per aumentare la frequenza si vedete si sente anche un ronzio in cassa quindi probabilmente qualcosa accatta adesso vado all'estremo del compensatore per vedere la massima frequenza qui addirittura siamo arrivati a 2 mega e 38 quindi troppo agisco ancora sul compensatore per arrivare a circa 2070 kilohertz poi eseguiremo bene l'allineamento dopo ora iniettiamo una frequenza alta la più alta delle onde medie quindi 1,62 megahertz sempre con la tecnica della modulazione AM on off quindi sceglierò un 100% di modulazione e una frequenza modulante di 5 hertz così la sentiremo bene agiamo sulla sintonia andiamo al massimo quindi condensatore tutto escluso eccola qua perfetto quindi la nostra frequenza è captata demodulata l'oscillatore locale ha creato la 450 con il segnale modulante che viene riprodotto dalla cassa ora andiamo in basso ecco sembra in realtà vedete che il segnale sia più forte a questa frequenza comunque andiamo in basso nel lato estremo della banda 520 ok e giriamo la sintonia dall'estremo opposto eccola qua sì quindi non è proprio in basso quindi in realtà va tarato per spostare la banda e allinearla al centro in modo che quando sono al minimo abbiamo la 520 quindi è spostato un po' verso il basso diamo ora un'occhiata cosa avviene a livello di segnali togliamo la modulazione AM quindi abbiamo la sola portante qui sull'oscilloscopio abbiamo la rappresentazione delle due frequenze che fanno appunto battimento quindi quella dell'oscillatore locale e quella in entrata vediamo in frequenza che aspetto hanno facciamo un'analisi FFT aumentiamo la risoluzione temporale quindi in modo che si possa vedere bene lo spettro ad esempio 250 kHz a divisione se adesso agisco sulla mia frequenza di entrata vedremo muoversi le righe eccole qua e quindi in pratica vedete che si muovono in verso opposto e sono le righe del battimento con l'oscillatore locale quindi quando arriviamo in sintonia la nostra frequenza d'ingresso va esattamente sulla frequenza intermedia ecco quindi quando siamo a 1.52 MHz la frequenza portante risultante è a 450 kHz per visualizzare quello che accade osserviamo lo spettro allora questa riga è a 450 kHz quindi quella della mia frequenza intermedia al momento l'oscillatore locale è al massimo quindi a 2000 kHz e in questo momento abbiamo una frequenza di 920 kHz quindi la differenza fra l'oscillatore locale che è 2000 meno 920 produce per battimento una riga che è circa a 1 MHz questa qui ora se vado ad aumentare la frequenza in ingresso la differenza fra il locale e questa calerà e sarà massima e avrò la mia sintonia quando arriva esattamente qua nella mia frequenza intermedia facciamolo subito quindi aumentiamo 1 MHz 1 MHz 1 MHz vedete è questa qui 1.2 1.3 1.4 eccola qua questa è la frequenza di 1520 kHz riportata in frequenza intermedia grazie alla frequenza di battimento dell'oscillatore locale infatti 2000 Hz meno 1520 circa arriva a 450 kHz anche lo stadio finale audio sembra funzionare bene se agisco sul potenziometro riesco a regolare effettivamente il livello rimane comunque una criticità su questo selettore con i pulsanti perché se ad esempio vado su un'altra posizione tipo onde corte e ritorno qui vedete che non attacca subito quindi qua il contatto è un po' precario se spingo con decisione poi dopo riparte ora ci occupiamo della gamma delle onde corte selettore in seconda posizione questa gamma copre la banda da 6 MHz a 7,5 MHz per fare il test con le onde medie prima ho utilizzato questi due terminali che mi hanno permesso di iniettare il segnale direttamente qua vicino alla barretta inferrite che è poi la vera antenna delle onde medie per le onde corte invece utilizzeremo l'antenna filare in dotazione che si intesta qua e inietteremo il segnale direttamente sull'onda chiaramente è un livello molto energetico per vedere che non ci siano problemi abbiamo 6 MHz di frequenza quindi una lunghezza d'onda di circa 50 metri ripeto lo stesso approccio di prima quindi condensatore con le lamelle tutte inserite minima frequenza misurata sull'anodo sempre del nostro oscillatore locale otteniamo una frequenza di 5.40 MHz quindi come vedete decisamente più elevata dall'estremo opposto della sintonia 7.46 MHz nel caso di onde corte utilizziamo sempre la frequenza intermedia di 450 KHz ma la gamma di frequenze da ricevere è ben più in alto rispetto a prima infatti idealmente parte da 6.450 KHz fino a 7.950 queste frequenze come sempre le otteniamo per somma rispetto alla frequenza intermedia quindi la frequenza minima dell'oscillatore locale dovrà essere tale che 6.000 Hz che è l'estremo basso della banda onde corte più 450 abbiamo 6.450 KHz e abbiamo misurato che il nostro oscillatore locale in questo caso è 5.400 quindi vedete è molto starato la frequenza massima invece sarà 7.500 KHz più 450 l'oscillatore locale dovrà arrivare fino a 7.950 e abbiamo rilevato 7.460 quindi come vedete abbiamo che l'oscillatore locale sta lavorando in una banda che è 500 KHz più in basso di quella prevista effettuiamo il test della ricezione mi posiziono a 8.000 KHz quindi circa 450 KHz più su della più alta frequenza che abbiamo visto sull'oscillatore locale e andiamo a cercare il nostro segnale vediamo eccolo eccolo qua riconosciamo la modulazione a M alziamo il volume perfetto poi chiaramente qua la sintonia è più difficile perché ovviamente deve essere molto più precisa è più stretta mi sposto col generatore di funzione ecco vedete qua siamo a 100 KHz in più ed è svanito torniamo di là 100 KHz in meno circa sì circa 200 KHz bene quindi la ricezione sulla gamma bassa di onde medie e onde corte in modulazione di ampiezza è funzionante ora si tratta di fare l'allineamento verificare la parte di occhio magico e riproduzione sonora in uscita e soprattutto guardare la parte di FM quindi modulazione di frequenza sulla banda 88-108 MHz siccome è una parte abbastanza corposa la tratterò in una seconda puntata quindi il video finisce qua io vi ringrazio per averlo visto e come sempre se vi è stato utile e vi è piaciuto un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.